Allora dopo gara di questa inimportante bellissima sfida tra Ferentino e Mirafin arriva purtroppo la sconfitta da parte del team di Luciano Mattone il suo disaccordo nel corso della partita gli è costato l'allontanamento dalla partita. Mattone una gara che comunque è stata veramente aperta un Ferentino partito subito con l'acceleratore pigiato forse quel piccolo sbaglio nella ripresa vi è costato caro? Intanto faccio i complimenti alla Mirafin per la partita che ha vinto una bella partita una partita tirata come sempre tra noi e loro hanno spuntata loro complimenti a loro punto non mi è piaciuto il modo di arbitrare perché ha sbilanciato la partita in maniera importante perché noi eravamo pochissimi e a un certo punto è uscito Scaccia che è il nostro miglior giocatore per aver preso un'ammunizione al primo tempo inesistente come altri compagni e se finiamo il primo tempo con tre ammoniti rientriamo in campo con quattro giocatori di cui tre sono ammoniti diventa poi gestibile a livello anche psico alla fine sì alla fine qualcun altro prende l'ammunizione esce fuori purtroppo l'ha presa il nostro uomo migliore e questo ha sbilanciato la partita mi dispiace perché è una bella partita e loro hanno meritato di vincere ecco mattone sfide sempre belle aperte con tante soddisfazioni tante belle occasioni anche nel passato lo dicevo nella diretta nel campionato regionale voi siete riusciti a togliere un risultato importante la scorsa stagione però purtroppo questa sera rimane questa amarezza lo diciamo anche in maniera molto scherzosa ironica no no sereni si dispiace la sconfitta ti dispiace però mi fa sorridere ieri sera hanno fatto un intervista è uscita l'intervista che c'erano tre quattro acciaccati e poi qui a qui a fianco a un giocatore che io stimo tantissimo è un ragazzo fantastico che secondo me può fare no la può fare ha fatto sempre la serie a perché merita la serie a è una squadra come la mirafine che c'ha tremila aerei da combattimento e fa l'intervista con i pannolini la sera prima mi sembra semplicemente ridicolo complimenti a loro ma queste cose se le potevano evitare allora l'ironia adesso la prendiamo in esame sorride marcello morera ma partiamo una cosa da da un presupposto tanto movimento tu queste giocate per te sono praticamente un fatto quotidiano anche se si gioca solo il sabato diciamo quello effettivo ma che gol hai fatto è stato importante gol ma io discordo con mister secondo me la chiave della partita abbiamo vinto noi quando se è stato allontanato lui perché la mancanza sua in panchina fa sentire perché lui è è un allenatore preparato e si vede che la ferentino è una bella squadra organizzata merito tutto il suo secondo me il punto diciamo la chiave della partita è stata questa allontanamento del miss e la partita è giusto poi che ha detto lui gli arbitri hanno fatto un po di casino hanno munito ogni falla era munizione così non si può giocare poi al secondo tempo per fortuna è stato esposto un giocatore importante come del ferentino come ha detto missi siamo stati fortunati a sfruttare questa questa opportunità però mettiamo un attimo un po di carne un po di più sul fuoco ci è sembrato che comunque il cambiamento di assetto soprattutto in difesa e l'ingresso ripetuto continuo da parte di capitana fratini vi ha dato qualche cosa una spinta in più si fratina sta due settimane che non si alena c'è una elongazione su adottori e oggi è stato importante perché meno male che lui ci ha dato una mano perché siamo dalla girone di andare del ritorno che stiamo giocando con tre quattro giocatori oggi è tornato petrucci ha fatto doppietta fratini che ha dato una grossa mano quando la nostra squadra diciamo che non completa è difficile batterci però oggi è stato diciamo la partita una bellissima partita sapevamo che era durissima vincere con la ferentino perché loro mi sa che non hanno mai perso a casa no mi sa che ecco il nostro obiettivo era questo prendere i punti qua pure il pareggio stava bene è certo tre punti ce la godiamo tanto però diciamo che oggi è stata una giornata fantastica per noi mattone chiudiamo proprio con con lei a questo punto il ferentino riparte da questa sconfitta ma che cos'è o meglio da dove riparti in questa sconfitta sereni con i vieti per terra e pensare a mantenere la categoria perché è il primo anno che la facciamo con il 90 per cento di ragazzi locali e con risorse molto limitate e chiaramente fai un periodo positivo e qualcosa in più a livello di ambizione ti viene però ti guardi e vedi i giocatori come marcello davanti e dici ma noi noi marcello non ce l'abbiamo ma manco la metà di marcello e tante volte ragioniamo con noi tra di noi e diciamo ce l'avessimo noi uno di quelli che c'ha la mira fin saremmo una squadra fantastica ha sottolineato il fatto di avere tanti giovani che non è poco felici ti ripeto ti dispiace della partita perché è una partita persa combattuta fino alla fine però resti orgoglioso dei nostri ragazzi che combattono con gente con professionisti fantastici che fanno la serie a e per me è un motivo d'orgoglio aver portato questi ragazzi a confrontarsi con marcello con fratini con alonso e con questi ragazzi qua che sono per noi un esempio che ci sanno qui ci sanno Grazie a tutti